Lo ridiamo e lo ripetiamo, noi adesso insorgiamo. Per le mattine facciamo una bella colazione abbondante. Oggi abbiamo la finocchiona, abbiamo la sbriciogona. Oggi è una giornata di festeggiamento? Oggi sì, dopo ieri sì. Allora noi ci siamo divisi in compiti. C'è la cucina, c'è le varie postazioni di controllo, c'è la ronda, c'è l'ingresso. Noi veniamo sette giorni su sette, giorno e notte, facciamo i nostri turni regolari e noi siamo qua in modo che questa è la nostra casa e sì che non la difendiamo. Alina, Alina, Alina! Sono state festeggiando? Stiamo festeggiando, il mio collega è diventato, diventerà baffo. Ma ancora non è andato. Due buone notizie in due giorni. Sì, sembra. Ieri infatti è stata una buona giornata martellare, due buone notizie. La famiglia lo sento, quindi un po' su, i violi, i mogli, però troppo... Non sono con noi diciamo, mi danno una gossa a mano. Quando ti riai? Uno, di 15 anni. Di mia moglie, io ero qua, quando eravamo a fare la foto di gruppo, mi chiama e mi dice Oh, ho saputo che avete vinto, è di qua. E io gli ho detto, guarda, ti richiamo dopo perché ora non posso. Poi quando sono tornato a casa, ne abbiamo parlato e... E' stata una gioia, giustamente. Aver vinto il primo... Cioè, vinto. Abbiamo fatto un passo, siamo riusciti a... A ottenere qualcosa. Sai, lavorare bisogna lavorare. Però... Lavorare in un punto dove... Creare un rapporto è una cosa bella. E questo mi vorrebbe mancare tanto a me. Grazie. 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 Grazie.